Ciao a tutti, oggi finalmente stiamo nel 2018 a Capodanno. Oggi vi farò vedere questo pony qua, che mi hanno regalato mia mamma e mio papà per Capodanno, che è bellissimo. Allora, intanto si chiama Gigi, come una pony nostra, il nostro maneggio è sempre nuova, però è molto diversa da lei, perché è Isabella il suo manto, quello del nostro centro ippico, e verso il collo è più marrone, invece verso la croppa è molto più grigia. Allora, lei, quindi vi ho detto che si chiama Gigi, è bellissima perché ha questa coda che se la toccate è davvero fatta bene, sembra veramente una coda di cavallo. Poi ha questa macchia stupenda, che passa come macchia, passa qua sotto e arriva qua. Poi ha questi fiocchi verdi, che avvolgono la criniera, e poi ha questi due ciuffetti che gli vanno sugli occhi. Poi ha questa fascia bianca sul muso, e ha questo, il muso più nero. Poi è afferrata, e come avete visto, gli ho messo gli scaldamuscoli che prima aveva Chantelle. Lei, credo che sia la mamma di macchia, perché una bambina mi ha scritto che macchia è un puledro pinto arabo, e lei, visto che gli assomiglia molto, credo sia una giumenta pinto arabo. Ciao!